buongiorno a tutti benvenuti a nostro webinar su alcuni argomenti usciti con le nuove versioni di questi ultimi periodi in particolare sull'importazione degli estratti conti bancari riconciliazioni e l'importazione delle anagrafiche da Cribis. Sono due moduli opzionali quindi sono a pagamento anche se attualmente le avete disponibili sulle installazioni fino ad un periodo che è diversificato con l'importazione anagrafiche Cribis fino al 28 di febbraio mentre per il discorso importi estratti conti fino al 30 di aprile. Poi se alla fine di questa presentazione vi è venuta voglia vi invitiamo a inserire una richiesta in area riservata per avere i dettagli su come acquistare questi questi pacchettini questi moduli. Facciamo un check up del audio video spero che mi abbiate sentito e non ci siano problemi se mi date un feedback qualcuno se mi dà l'ok se si sente si vede bene ok grazie grazie Francesco grazie Clara ok ok grazie grazie e diamo ancora due minuti a qualcuno di collegarsi ma siete quasi tutti collegati e vi ringraziamo per questo il corso lo terrà Laura Lenzi che invito a raggiungersi buongiorno a tutti buongiorno e potete già sapete intervenire con delle domande che trovate nella parte a sinistra nelle chat dove Laura si fermerà ogni tanto a leggere poi magari darò io un supporto per poter essere più veloci e rapidi. La documentazione abbiamo messo a disposizione quella di Passpartout che vi dà proprio le linee guide di questi di questi moduli che potete scaricare direttamente da dal pannellino del go to webinar nella sezione appunto documenti oppure nella nostra area riservata nella sezione documenti collettivi webinar il corso dovrebbe durare un'oretta un'oretta e mezza quindi speriamo di liberarci tutti in maniera veloce penso di aver detto tutto ormai mancano pochissimi e niente a dopo e buon corso ciao grazie allora buongiorno a tutti come vi ha anticipato Massimiliano faremo una carellata una presentazione su alcune funzioni che sono già disponibili sulle versioni rilasciate nelle ultime settimane e gli argomenti riguardano la nuova gestione distinta effetti automatica che riguarda l'emissione delle riba e dei bonifici per avere una generazione di un archivio che permette la gestione dell'evoluzione degli effetti e a seguire vedremo la funzionalità della riconciliazione bancaria e in coda faremo un attimo un approfondimento veloce sulla funzione che riguarda l'arricchimento delle anagrafiche con cridis e parto velocemente con la funzione della gestione della nuova distinta effetti questa modalità è attivabile da tutti non è soggetta alcun canone è previsto però che venga debilitata sulla singola azienda quindi dal menu servizi variazioni parametri aziendali esiste un flag da accendere distinte automatiche quindi finché è spento voi continuate a fare ad operare come state facendo adesso nel momento in cui decidete di orientarvi verso la nuova gestione si tratta di venire ad accendere questa funzionalità che si attiva quando tutti i terminali sono fuori da mixal è una gestione che nel caso può essere disattivata quindi se non vi trovate bene la potete disattivare e tornare alla modalità normale adesso provo un po raccontarvi i passaggi necessari alla gestione di questa nuova distinta che ha come vantaggio quello di poter seguire l'evoluzione dell'emissione di riba ai bonifici quando si procede alla presentazione delle riba parlo in particolare ma vale anche per i bonifici come exal fino adesso arriviamo a generare un file che trasmettiamo alla banca poi l'evoluzione di questo file va un po seguita c'è chi fa una doppia presentazione da presentazione in portafoglio a maturazione valuta chi invece fa il passaggio direttamente con la e grande nello scadenzario al movimento della vatturazione valuta procede manualmente in prima nota fare le scritture di maturazione saldi la funzionalità nuova permette di gestire tutte queste attività legate alla distinta direttamente da un menu nuovo che si viene ad attivare sempre nella funzionalità incassi e pagamenti gestione effetti che si chiama gestione distinte da questo menu infatti è possibile eseguire tutte le operazioni che nascono da una presentazione distinta in maniera guidata e automatica e consente di avere un archivio che resta nel tempo e su cui potete andare a controllare lo stato della situazione della vostra distinta perché da lì potrete gestire i giroconti di maturazione valuta generando le scritture contabili e mantenendo l'evidenza sull'archivio oltre che registrare in automatico gli insoluti contando sulla riapertura delle rate oppure la generazione di rate nuove noi in genere consigliamo però di utilizzare come funzionalità quella della riapertura delle rate di origine perché soprattutto nelle situazioni in cui si gestiscono alcuni automatismi come ad esempio le provvigioni questo permette di liberare diciamo la provvigione dal dalla situazione dalla condizione di maturato e tornare in provvigione non maturata vediamo velocemente un attimo i passaggi che sono previsti per questa funzionalità che ripeto potrebbe già essere attivata da tutti già da subito e il concetto si basa sull'utilizzo di un conto transitorio allora innanzitutto nella tabella banche si rende necessario andare a individuare quali sono le banche su cui lavorare archivio che chi presenta le ribe i bonifici ha già compilato e controllare negli ulteriori dati che si ha flegato il campo di gestione contro il corrente ordinario quindi dobbiamo identificare quelli che sono i nostri conti che corrispondono ai conti correnti ordinari inoltre sulla grafica delle banche si è attivato un nuovo archivio che si chiama conto emissione effetti questo archivio conto emissione effetti ci permette di agganciare direttamente qual è il conto di transito che utilizzeremo al momento della presentazione delle ricevute bancarie e potremmo elencarne anche più di uno se ci fosse la necessità l'importante è che poi riportiamo lo stesso iban che fa riferimento al conto corrente ordinario questo ci permetterà di avere una correlazione diretta questa tabella conti emissione effetti che occorre aver compilato prima della presentazione è anche raggiungibile in una tabella dedicata che troviamo adesso nel menu contabilità tabelle conti emissioni effetti quindi la possiamo quindi compilare direttamente dalla banca oppure accedendo direttamente a questo archivio dove troviamo di nuovo i conti correnti ordinari e premendo invio riusciamo ad accedere alla collegamento dei conti transitori e la presentazione delle distinte quindi avviene sempre nel menu gestione effetti emissione riba che conoscete già e entrando non avete subito la maschera di impostazione dei parametri per la presentazione vi presenta i conti transitori che utilizzerete per la presentazione la scelta del conto condiziona già la compilazione della tabella vedete che scegliendo il conto mi ha già proposto la presentazione sul conto scelto procediamo alla presentazione così come conoscete già adesso io faccio un filtro di scadenze perché non voglio emettere tutto con l'emissione definitiva il programma genera un file che non viene più generato nella cartella locale diretta come avviene ora viene generato sul sul server e come succede già per i bonifici sepa per chi li sta emettendo esiste poi dopo una un tasto funzione che ha pugisi archivio elettronico che permette di copiare il file in locale questo permette di superare l'inconveniente che sia presentazione distinta fatta scappa un ulteriore f10 per ripetere elaborazione oppure è capitato in passato mi ricordo che qualcuno per controllare la presenza di effetti eventualmente non presentate ha riconfermato perdeva il falco necessità di cancellare la distinta facendo quindi il nome file può non essere più interessante la presentazione avviene così come la conoscete già come la state facendo per arrivare poi alla generazione dell'effetto uno dei vantaggi che a questa gestione nuova della distinta è che essendo tutto tracciato nel momento in cui ci dovesse essere un errore e siamo costretti a cancellare la presentazione della distinta il programma è in grado di riaprire automaticamente gli scadenzari senza necessità di nessuna operazione manuale voi sapete adesso che nella modalità ordinaria se vi capita di fare una presentazione sbagliata e dovete eliminarla poi vi dovete preoccupare per ciascun scadenzario coinvolto nella registrazione dovete procedere alla riapertura della rata corretta con questa gestione questa attività è automatizzata voi dovete semplicemente dire al programma che cancellate la registrazione lui sia preoccupa di riaprire tutti gli scadenzari che erano coinvolti a questo proposito sono stati creati due nuovi contattori due numeratori automatici che sono gestiti sempre nella tabella dei numeratori dove avete anche registri iva che sono la gestione della numerazione delle distinte vedete qui e la gestione della numerazione degli insoluti questo perché ad ogni presentazione distinta viene assegnato una sorta di protocollo che identifica in maniera univoca quella distinta stessa cosa per gli insoluti nel momento in cui dalla distinta noi chiediamo al programma di generare un insoluto l'insoluto ha un contatore automatico in modo che sia individuabile in maniera univoca dal momento che abbiamo fatto la presentazione voi potete sempre adesso io per esempio ho dimenticato di copiare il file che il programma mi ha generato sul server ma questo non è un problema perché tornando in incassi e pagamenti gestione effetti accedendo a quel menu nuovo che è stato generato noi troviamo l'archivio di tutte le presentazioni fatte vedete questa è la mia di adesso del 18 febbraio con l'importo complessivo della presentazione la banca ne ho altre precedenti perché il programma mantiene la storia avete questa finestra che è una finestra d'elenco dove avete tutte le funzionalità delle finestre l'elenco compresa la possibilità di personalizzarvi la griglia agendo sul campo configuratore che è il simbolo dell'ingranaggio vedete quindi qui se ci sono dei campi che volete escludere volete riposizionare siete liberi di personalizzarvi la la visualizzazione come siete abituati a fare in tutte le l'elenco delle banche scusate in tutte le griglie ad elenco e premendo invio sulla distinta voi in qualsiasi momento avete la possibilità di consultare come questa distinta è composta ed eventualmente scusate che sto tribolando con le finestre del webinar che mi coprono i tasti funziona ok quindi potete in qualsiasi momento entrare venire a vedere il dettaglio della vostra presentazione allora scopriamo i tasti dove avete sempre disponibile il tasto funzione che vi per se vi permette di copiare il file della distinta da trasmettere in banca quindi eseguendo questa funzione il programma propone di salvare il file in una cartella locale il file che va a generare questo che vedete rib col progressivo di distinta quello dei numeratori e l'indicazione della data di presentazione punto la sigla azienda e la cartella se non ne vogliamo personalizzare una diversa ci propone una cartella locale che si chiama effetti l'anno di presentazione txt fisso e la sigla dell'azienda in modo che se abbiamo più aziende gestite ogni azienda abbia la sua cartella personale e esco un attimo vi dicevo che qui trovate tutte le gestioni precedenti con gli stati ad esempio su queste versioni che su queste presentazioni che io avevo ho già dei giroconti di contabilizzazione perché siamo arrivati a maturazione valuta e ho anche già delle registrazioni di insoluto quindi ho proprio tutta la tracciabilità di quello che è lo stato della mia distinta cosa possiamo fare su una distinta allora abbiamo la possibilità eventualmente di anche qui troviamo di nuovo una finestra d'elenco con la possibilità quindi di creare degli ordinamenti qui potremmo se ci interessa ad esempio selezionare solo sto facendo in questo modo ma ce ne sono dei più furbi perché se usiamo il filtro veloce possiamo tracciare direttamente la nostra scadenza io potrei a questo punto selezionare gli effetti e eventualmente attribuire una data di valuta perché in questo modo assegno un'informazione in più che mi completa le informazioni della distinta che mi potranno tornare comodo nel momento in cui arriviamo alla data di maturazione valuta per i giroconti automatici lo facciamo anche per questo che data gli ho dato il 2 gennaio la scarca il primo di febbraio vediamo la valuta 3 febbraio ok ogni volta che io eseguo un'operazione il programma si preoccupa di riallineare i dati e poi abbiamo la situazione questa qua del 30 e gli diamo una valuta del primo di febbraio se ad esempio succede che ci arriva un insoluto noi possiamo a questo punto scegliere la riga che ci interessa e dare l'istruzione di generale insoluto la devo scegliere la riga non lo devo solo dire devo proprio fleggarla ok sì ho fatto una variazione che non ho salvato quindi lui mi avvisa perché ha bisogno di aggiornare lo stato quindi in questo modo io seleziono genera insoluto il programma mi chiede in quale data voglio generare l'insoluto qual è la banca che devo coinvolgere e in questo momento io sto selezionando una riga soltanto quindi diciamo che questo file non questo questo informazione non è molto importante però se avessi selezionato più righe mi chiede se voglio fare una registrazione dettagliato per totale dettagliata vuol dire che ho il conto della banca che si modifica per ogni riga selezionata oppure per totale al conto della banca che si movimenta per la somma delle righe che ho selezionato faccio per dettaglio mi chiede se voglio riaprire la rata esistente o se voglio generare una nuova rata che tipo rata voglio assegnare ad esempio se abbiamo battezzato una tipologia di scadenzare specifica che identifica gli insoluti posso dare che mi riapra la rata come insoluto e posso dirgli se riaprire la rata mantenendo la scadenza originale oppure se voglio aggiungere qualche giorno alla scadenza originale nel momento in cui confermo con la f10 il programma mi ha già generato la scrittura contabile e assegnato che la registrazione è stata generata dell'insoluto da prima nota qui di fianco nel bottone prima nota quando siete posizionati su una riga avete sempre la possibilità di richiamare tutte le registrazioni che risultano essere collegate a questa registrazione di prima nota quindi io posso in qualsiasi momento rivedere tutta la registrazione dell'emissione distinta così come era in originale oppure posso in questo caso che ho l'insoluto andare a verificare la mia registrazione dell'insoluto dove il programma si è preoccupato di cambiare vedete lo stato della riga mettendogli y lasciandomi la scadenza originale perché io gli ho dato questa informazione in questo momento io ho popolato i parametri in maniera manuale per la gestione dell'insoluto ma voi avete un'impostazione a monte un po' come per l'importazione delle fatture elettroniche dove potete stabilire quali sono le regole generali per gestire le attività dentro la distinta quindi voi potreste definire la regola generale di fare l'importazione dettagliata delle prima le registrazioni dettagliate di prima nota di riaprire sempre le rate esistenti magari utilizzare quella specifica discadenzario che sia battesata ma poi in gestione della singola distinta voi potete andare in deroga di quei parametri generali quindi applicare degli specifici un altro tipo di attività che potete fare è quella di facciamo quella del 31 gennaio io potrei a questo punto magari mi posso usare il filtro evoluto così mi filtro già le righe che mi interessano quelle del 31 gennaio le scelgo tutte potrei dire al programma contabilizza effetti varia stato e dirgli fammi il giro conto contabile voglio una una registrazione per totali valuta scadenza e voglio che che la registrazione sia per totali cosa succederà il programma che ha generato la scrittura su questo conto transitorio che nel mio caso lsbf farà un giro conto contabile per accreditare la banca e chiudere il conto effetti non lo confermo adesso perché voglio fare usare questa registrazione per fare dell'altro dopo nella riconciliazione però ecco andrebbe a generare il giro conto contabile alla data di valuta scadenza perché è uno dei parametri che io ho impostato e anche questo mi verrebbe segnata sulla registrazione l'archivio delle distinte è richiamabile sia da questa voce specifica che trovate in contabilità in casse pagamenti gestione effetti e gestione distinta ma anche in revisione prima nota avete un tasto funzione che in qualsiasi momento vi permette di richiamare il vostro archivio distinte per poterci generare delle scritture quindi lo potete raggiungere da qua perché magari state facendo dei controlli sul tuo comodo da qua oppure dal menu dedicato e le registrazioni che vengono generate da questi automatismi allora si vado in prima notte vado a vedere le missioni della distinta vedete qua in alto che c'è un flag e di auto vuol dire che è l'emissione di una distinta automatica questa registrazione risulta congelata non posso modificarla perché altrimenti andrei a perdere i legami con la gestione della distinta qualora ci fosse la gestione la necessità di sbloccare una registrazione di prima nota mi devo preoccupare di cancellare il collegamento dalla gestione della distinta e a quel punto ho la registrazione libera questi vincoli chiaramente servono a garantire i legami i giroconti quindi se ho fatto una presentazione quella rimane tale se l'ho sbagliata la devo cancellare ripetere l'emissione perché non ho modo di fare variazioni sulla riga quindi è come deve essere perché comunque devo generare un file che deve andare in banca che deve rispettare quello che ho presentato e scadenze sono già state definite dalla presentazione stessa cosa sulle registrazioni che eventualmente ho creato a corredo tipo la registrazione dell'insoluto anche questa viene in qualche modo marcata come non modificabile proprio per permettere i controlli di evoluzione della distinta esiste nel menu servizi servizi una funzione di controllo della congrualità distinta perché se a un certo punto avessi fatto delle forzature l'archivio delle distinte viene a scostarsi da quello che alla prima nota il programma mi dà un'evidenza quindi ci sono degli strumenti a supporto le versioni che vi stiamo le funzionalità scusate che vi stiamo presentando oggi sono di primo rilascio e quindi sono soggette a miglioramenti alcuni ci sono già stati dai primi rilasci altri sono previsti prossimamente quindi è una funzionalità che destinata ad essere migliorata dal punto di vista dell'operatività credo che sia una funzione che può essere interessante già per tutti quelli che fanno la presentazione di bonifici e di riba perché comunque diciamo non va a perdersi niente di quello che si stava facendo già prima ma ci sono tutta una serie di funzionalità che guidano l'operatore ai controlli e alla gestione delle operazioni sulla distinta che sicuramente sono migliorative consiglio potrebbe essere quello magari di approfondire la gestione insieme perché potrebbe essere un po più facile da seguire da applicare però ecco noi abbiamo già alcune installazioni che stanno utilizzando questa modalità operativa e non abbiamo così riscontrato rallentamenti ma vediamo che comunque tutte le novità diciamo implementative vengono apprezzate c'è compatibilità con quello che è successo fino adesso quindi se ci fossero ancora delle situazioni in cui stiamo gestendo la presentazione in portafoglio quindi il primo giro di chiusura del cliente per aprire il conto sbf e mettere la e piccolina nello scadenzario che ha la presentazione in portafoglio il secondo giro per arrivare a maturazione valuta quindi la chiusura del portafoglio da e piccolo a e grande c'è compatibilità anche con la precedente gestione nel caso ci sono dei parametri qui che va c'è un parametro non ci sono dei ma uno che va attivato nei parametri generali dove andiamo dire che deve essere mantenuta anche la compatibilità per la chiusura delle rate precedenti quindi diciamo che potenzialmente potete procedere alla gestione delle nuove distinte già da subito volendo per quanto riguarda l'emissione dei bonifici vale quanto detto per le ricevute bancarie la differenza è che la presentazione non ha bisogno di un conto di transito ma viene generata direttamente sul conto effettivo della banca e anche in quel caso viene mantenuta traccia della distinta per poter rigenerare in qualsiasi momento il file da presentare alla banca ed avere la traccia dei dettagli della nostra distinta presentata non non avevo creato il caso ma se nella presentazione della distinta trovassimo degli effetti raggruppati quindi un effetto complessivo per uno stesso cliente perché ha più rate alla stessa scadenza ci sarebbe il simbolino di una cartellina gialla quindi avrai l'importo complessivo affiancato da questa cartellina gialla e andando in esplorazione della cartellina gialla troviamo il dettaglio degli effetti in esso contenuti quindi anche a livello di ricostruzione delle situazioni sicuramente abbiamo tutta una serie di informazioni che restano nel tempo che posso consultare in qualsiasi momento che riuscivo ad ottenere anche prima ma in una maniera sicuramente meno rapida e fatemi dare un'occhiata per vedere se posso ecco una cosa che non vi ho detto è che ad esempio rientrando sulla distinta abbiamo la possibilità di variare i dati qui varia testata distinta in varia testata distinta ci sono tutta una serie di informazioni che riguardano la presentazione automatico quindi il programma tiene traccia in qualsiasi momento di qual è il nome del file che fa riferimento a questa presentazione quali sono gli stati quindi c'è qual è il numero della distinta la presentazione quanti insoluti abbiamo già registrato su questa distinta quindi anche come valore statistico può essere interessante possiamo copiare il file anche da qua ma possiamo anche eventualmente a un certo punto venire a inserire il numero della distinta che viene attribuito dalla banca questo ci potrà ritornare comodo come elemento di identificazione nel momento in cui vorremmo sfruttare nella funzione di riconciliazione bancaria che vediamo tra pochissimo per aiutarci a riconoscere qual è la distinta a cui si riferiscono i movimenti di banca ok confermo e quindi qui siete guidati come sempre da tutta una serie di tasti funzione che vi guidano nella nella gestione della distinta e soprattutto i filtri che trovate sulla distinta sono veramente comodi perché nelle situazioni in cui il numero degli effetti diventa un numero importante poter godere di un supporto che in qualsiasi momento mi permette di estrarre tutta la composizione della distinta e di poter mi aiutare nella rigenerazione delle scritture che ne derivano è sicuramente un buon aiuto e chiedo se ci sono delle domande c'è una domanda di lorena si aiutare perché le vedo molto piccole grazie andiamo in casti pagamento emissioni riba per le ricevute bancarie dei fornitori rimane tutto come prima si rimane tutto come prima c'è chi mi chiede un po più piano non si è capito dove si deve flegare per l'import banche e allora diciamo che questo non è un corso di formazione quindi eventualmente possiamo fare delle presentazioni il flag ce l'abbiamo dentro e questo che vi sto raccontando adesso è tutto documentato nel manuale che rendiamo disponibile sulla nostra area riservata quindi troverete un manuale per la riconciliazione bancaria ma anche per la nuova gestione distinta con tutti i dettagli delle cose che vi sto mostrando adesso adesso mi interessava un po coinvolgervi per spiegare qual è la funzionalità e i vantaggi che potreste ottenere da questa gestione attivandola sul gestionale il flag a cui facevo riferimento ce l'avete in contabilità banche all'interno della banca nel campo ulteriori dati state che ulteriori dati qua conto corrente va specificato conto corrente ordinario e andiamo qua non c'è altro vero no non ce ne sono altre domande per adesso ok e passerei alla questione invece della riconciliazione bancaria alcuni di voi che stanno che ci stanno seguendo in questo momento stanno avevano già acquistato una di gestione strati conti bancari che prevedeva tutta una serie di configurazioni iniziali e di configurazioni che dovevano essere aggiunte nel tempo quando si presentavano dei casi nuovi non previsti da registrare per poter avere così un supporto alla registrazione ma quella funzione aveva tutta una serie di limitazioni anche legato alle rate di scadenzare eccetera che diciamo la rindevano funzionale ma migliorabile questa gestione nuova che vi stiamo presentando è sicuramente un passo importante si brasa su l'utilizzo di tracciati standard cbi txt di tipo rh vuol dire che lavora su un file che è estraibile dalla banca quindi dall home banking da tutti gli home banking e che il tracciato su cui opera è identico per tutte le banche ma soprattutto le causali richiamate da questo file sono uniche perché fanno parte sono definite dal consorzio cbi quindi la causale 16 è uguale per tutte le banche qual è il vantaggio il vantaggio è che in questo modo non c'è bisogno di fare una configurazione personalizzata per ciascuna banca perché la configurazione è vera indipendentemente dalle banche quindi se aggiungo una banca nuova oppure se mi trovo a gestire un caso che fino a quel momento non era gestito ci troviamo già tutta una serie di funzionalità e di automatismi che ci garantiscono la possibilità di utilizzare già le registrazioni in automatico o guidate a seconda delle situazioni per popolare la prima nota e la funzione di riconciliazione bancaria si attiva si attiva con una sessione solo aperta dai servizi variazione variazioni aziendali ed è previsto un flag dedicato riconciliazione bancaria da quel momento nel menu contabilità vi trovate una nuova voce di menu che richiama questa funzionalità la riconciliazione bancaria ci aiuta proprio nella verifica della corrispondenza delle registrazioni contabili con quelle della banca ci permette di rilevare registrazioni nuovi di correggere eventualmente quella quelle esistenti e ci dà una guida per vedere che cosa abbiamo già gestito rispetto ai file che troviamo dalla banca da quello che ci resta ancora da gestire quindi ci aiuta in quel lavoro di segnatura che facciamo sulle schede contabili per vedere se abbiamo fatto tutte le registrazioni contabili e i file che vengono utilizzati sono dei file che dicevamo prima vengono scaricati dal sito del dal banking hanno un tracciato fisso magari che adesso ve lo mostro ma non è interessante per la vostra operatività ecco quello che serve è recuperare i file della banca parcheggiarli tra virgolette in una cartella sul computer in rete eccetera per poterlo poi raggiungere il file che andiamo ad importare adesso allora guardiamo prima le tabelle poi dopo vediamo un attimo come funziona la riconciliazione le tabelle delle causale siria e quindi dicevo sono standard perché sono uguali per tutte le banche abbiamo delle causali che prevedono una sola contropartita e che ci permettono una serie la velocità di registrazione il programma passepartout scusate ha già rilasciato delle causali delle sotto causali in cui sono già previsti degli agganci automatici questi sono presenti per chi sta già utilizzando e raggruppazione 80 e 81 chi invece ha un piano dei conti personalizzato può comunque crearsi delle causali personali per andare a creare legami in base al proprio piano dei conti per tutti vale che comunque c'è la possibilità di creare delle sotto causali sono previste fino a 99 sotto causali per ogni causale cbi e dove voi potete eventualmente creare diverse modalità di registrazione ad esempio io sono adesso dentro la causale cbi al che prevede le commissioni se avessi piacere di gestire un conto di commissione diversificato per banca perché ho bisogno di misurare quante sono le spese per ciascuna banca potrei crearmi diverse sotto causali quando vado a fare le registrazioni permettermi di scegliere una sotto causale diversa posso duplicare le esistenti e da lì andare a devo andare sulla causale che voglio copiare faccio duplica sotto causale gli dico dove la voglio duplicare il programma a questo punto mi crea una copia io da qui posso permettermi di entrare e inserire che cosa posso inserire il contro la contropartita o le contropartite posso già preimpostare un esempio di registrazione descrizione della prima nota c'è la possibilità di marcare come predefinita la causale che preferisco che mi venga proposta ogni volta che aprirò il file di riconciliazione mi troverò la causale 16 quindi potete personalizzare sia il predefinito e crearvi diverse sotto causali le sotto causali funzionano come le causali contabili per cui se stiamo parlando di un'installazione di un commercialista che ha tante aziende tutte le aziende del raggruppamento in base a come avete gestito la tipologia degli archivi quindi se nella tipologia degli archivi gli avete detto di usare quelli di raggruppamento le causali personalizzate che avete creato sulla singola azienda sono disponibili per tutto il l'aggruppamento e questa tabella è una tabella che viene alimentata e completata da passepartout le sotto causali vi dicevo che sono 99 le prime 20 sono riservate a passepartout quindi se verranno inserite nuove sotto causale il programma si preoccuperà di aggiungere fino alla posizione 20 dalla 21 alla 99 invece siete liberi di creare delle vostre personali quando entrate nella funzione di riconciliazione bancaria vi trovate l'elenco di tutti i conti correnti battezzati come conto correnti ordinari nella tabella delle banche perché vi permetteranno di entrare la gestione singola delle vostre banche fuori proprio nell'elenco avete questa funzione che cartella import file cbi la prima volta che entrerete nella funzione di riconciliazione il programma vi chiederà di indicare la directory in cui avete parcheggiato i file delle banche da importare nel mio caso l'ho chiamata riconciliazione voi lo chiamerete come risulta comodo quindi la prima volta ve lo chiede poi memorizza il percorso che manterrà valido anche per gli import successivi salvo che non abbiate necessità di cambiare a quel punto avete la funzione che vi permette di cambiare la directory voi potete recuperare i file delle banche più volte al giorno più giorni ogni giorno e portando i file in quella cartella di prima siccome ogni riga del file cbi è identificato da un univoco da un codice univoco ripetendo la funzione di import movimenti file cbi il programma si preoccuperà di controllare il contenuto dei file che avete messo nella cartella e di recuperare da quelli solo i movimenti che ancora non sono stati importati per importazione io intendo una la il popolamento di una tabella di transito che vi permetterà di gestire la situazione delle vostre righe cbi è un po come viene gestito il discorso delle fatture del cruscotto delle fatture ricevute voi avete una funzionalità che vi permette di acquisire tutti i documenti che sono arrivati dall'agenzia delle entrate e da lì andate a fare le gestioni quindi le contabilizzate li passate sulle contabilizzate dal magazzino in docu visione eccetera man mano li gestite qui è uguale l'importazione praticamente è l'acquisizione delle righe in un pannello che ci permetterà poi di andare a fare delle attività che sono o registrazioni di prima nota nuove legate a quelle righe cbi oppure il collegamento di registrazione esistenti per riconciliare la riga del file cbi facendo importazione movimenti da file il programma controlla quindi il contenuto di quella cartella che abbiamo detto prima dove possiamo aver messo i file di tutte le nostre banche gestite quindi tutti insieme nella stessa cartella nel momento in cui generiamo il file ci mostra quelli che sono disponibili quindi noi li possiamo selezionare tutti nel mio caso li avevo già importati quindi mi mi dirà che cosa che nel momento in cui vado a fare la registrazione mi dice che non ha importato niente perché non ha trovato niente di nuovo e che 157 movimenti risultano non importati facendo il visualizza dei non importati il programma mi dice qual è la motivazione del mancato import e mi sta avvisando che non mi ha importato niente perché in archivio era già presente per cui in questo modo voi tranquilli potete scaricare i file dalla banca in qualsiasi momento per integrare la vostra situazione ed è il programma che fa il controllo di coerenza vi fa vedere soltanto importa scusate soltanto le righe che ancora non sono state gestite l'importazione cosa prevede adesso andiamo a vedere quindi dicevo noi abbiamo l'elenco di tutte le banche gestite a questo punto per cominciare a lavorarci sopra devo scegliere la banca che mi interessa utilizzare io ad esempio voglio adesso lavorare sulla banca popolare quindi entrando io vedo solamente le righe che riguardano la banca popolare abbiamo i riferimenti i riferimenti dei del file cbi questa è quella causale che vi dicevo prima quindi in questo caso la causale la 16 commissioni trovate nel dettaglio che è sempre disponibile tutta la descrizione che il pro che la banca mette disponibile dentro al file quindi in questo caso voi potete avere i riferimenti dell'operazione in qualsiasi momento quindi quando avete bisogno di un chiarimento invece che andare a fare delle ricerche sul sull'estratto conto della banca se vi siete già preoccupati di fare questa importazione per la riconciliazione i dettagli li avete qua questa maschera si propone di due sezioni la sessione superiore riguarda le informazioni che sono riportate all'interno del file dove è indicata la causale cbi che ci aiuterà nelle registrazioni il programma si preoccupa di proporci qual è la causale guidata che ci suggerisce da utilizzare per la registrazione di banca e accedendo all'archivio io posso comunque venire a sceglierne una diversa perché magari per questa volta preferisco fare un'eccezione e nella zona sottostante troveremo i riferimenti delle registrazioni di prima nota che si agganciano a questo movimento di banca e che mi giustificano l'avvenuta riconciliazione a video avete una serie di filtri che sono tipici della gestione delle finestre d'elenco e anche qui avete la possibilità di disegnare un po la vostra visualizzazione ed eventualmente coi filtri avanzati magari vediamo tra un po i filtri veloci avete la possibilità anche di non so filtrare soltanto i movimenti che ancora dovete riconciliare questa colonna dello stato è la colonna che ci guiderà nel capire lo stato delle nostre righe in questo momento io ho pulito tutto e non ho riconciliato ancora niente che cosa può succedere quali sono le situazioni la situazione che ci possiamo trovare di fronte che rispetto a questo questa lista di movimenti che ancora devo riconciliare potrebbe essere che in prima nota ho già fatto delle registrazioni quindi devo solo far capire che la registrazione contabile esiste già e che quindi quel movimento è già riconciliato entrando quindi sulla riga che mi interessa io posso dire al programma visualizza la prima nota perché mi va a ricercare scusate collega prima nota sbagliato il tasto collega prima nota mi il programma mi propone le registrazioni che riguardano la banca su cui sta lavorando io da cui posso selezionare la registrazione che mi interessa eventualmente potendola anche visualizzare quindi ho visto che il movimento lo avevo già fatto in prima nota lo voglio agganciare a questa registrazione per l'importo intero l'ho associato vedete quindi questa è l'estratto della mia banca quindi le informazioni del file questo è il collegamento che ho generato con la mia prima nota già esistente quando lo confermo io mi trovo il pallino verde questo pallino verde mi dà l'indicazione che tutto l'importo dei 6 euro 0 9 è stato riconciliato e questo movimento di cui non mi devo più preoccupare perché so che in prima nota c'è già questo è il caso in cui mi aggancio a qualcosa che esiste già dopo ho tutta una serie di funzionalità che mi guida per la registrazione di di cose che mi mancano posso ad esempio come in questo caso che si tratta di un incasso da cliente lui mi trova la causale 48 io ad esempio potrei dirgli già chi è il cliente di riferimento perché comunque nell'estratto conto bancario mi trovo una ragione sociale che non sempre neanche scritta come scritta la camera di commercio con i punti di separazione delle lettere eccetera ma posso eventualmente per velocizzare venire a segnalare scusate che mi sono dimenticata di una cosa e nei parametri di riconciliazione che voi potete impostare il programma vi chiede intanto la riconciliazione che riguarda la generazione di registrazioni nuove se la volete fare con la data di registrazione o con la data di valuta il programma userebbe la data di registrazione che è portata nel file cba e come data proprio della registrazione di prima nota mentre la valuta l'andrebbe indicare nel campo nel secondo campo data quello dove di solito mettiamo i riferimenti dei documenti poi quando ci alleghiamo alle funzioni ad esempio per la ricerca della prima nota come ho fatto io poco fa che mi sono andata ad agganciare a una scrittura che avevo già fatto a mano scollegata da tutti in prima nota lui mi chiede dei parametri per dire ok nell'andarti a cercare le registrazioni di prima nota ti do un range di data dieci giorni indietro dieci giorni avanti rispetto alla data che io trovo sul movimento della banca adesso sono venuta qua perché nel mio saldaconto mi sa che devo andare più indietro di 30 giorni almeno se no la mia errata non la trovo perché questo era un pagamento di una data che si discostava quindi anche qui posso personalizzarmi range di data in cui penso di trovare i movimenti quindi dicevo che in questo caso che ha un incasso da cliente io mi aggancio se voglio ma non è obbligato posso dire chi ha il cliente a cui mi voglio collegare col saldaconto e con le f6 contabilizza infatti non mi ha trovato le rate perché sono troppo questa mi ha pagato prima e quindi non mi trova la rata con quello che gli ho detto e mettiamoci quando ce l'avevo la scadenza mi deve aprire lo scadenzario cosa ho perso perso la rata 984 scusate che vado a vedere scadenza gli avevo dato comunque la sostanza è che mi richiamo le funzioni del saldaconto così come le state utilizzando per la contabilizzazione e vado a ad agganciarmi con la funzione paga col pagamento personalizzato per a me la sono cancella ma ah beh ho sbagliato io 16 54 scusate ho sbagliato proprio gli ho voluto dare il conto ma ho sbagliato anche il conto facciamo che non gli diamo il conto poi dopo vediamo con la selezione del conto quindi contabilizza lui mi apre il saldaconto se mi interessa vengo a scegliere qualcosa di particolare aspettate ancora te 24 era questo l'importo 207 207 diciamo quell'altro che questo non mi ricordo chi è chi ok da qua contabilizza prendo il mio importo gli dico è pagato questo confermo scusate che ho le maschere che mi coprono contabilizza mi chiede qual è la causale che voglio usare per questo mi sta lanciando e sta utilizzando tutte le funzionalità evolute del saldaconto e a questo punto mi ha agganciato la registrazione stessa cosa se fosse un ritiro delle riba fornitori le voglio riconciliare direttamente da qua quindi ho gli agganci quindi ho tutte le funzionalità evolute per agganciarmi al saldaconto e permettere di fare una adesso che ho generato la registrazione vedete mi ha messo il pallino il pallino verde perché l'ha riconciliata in questo caso che ad esempio ho una commissione bancaria entrando lui mi sta proponendo che la causale 16 questa è una causale semplice che prevede una sola contropartita se mi va bene che il programma utilizzi la causale predefinita è una nel momento in cui faccio contabilizza solo cliccandoci sopra il programma già generato la prima nota vedete me l'ha già agganciata è velocissima questa cosa posso visualizzare la prima nota posso venire a mettere delle descrizioni a completare la mia registrazione sempre sempre fino a quando non ho confermato con le f10 l'uscita dalla riconciliazione perché da questo momento in poi le scritture sono congelate sono congelate nel senso che avendole riconciliate il programma mi permette di consultarle ma sono risultano essere bloccate quindi nel momento in cui io volessi fare delle variazioni vedete che sotto l'ok è disattivato proprio perché mi deve essere mantenuto il legame con la riconciliazione già fatta altrimenti i miei controlli saltano a questo punto se io proprio avessi bisogno di coraggiare una registrazione mi posso permettere di eliminare il collegamento della riconciliazione sistemare cancellare la prima nota rigenerarla corretta ed eventualmente rigenerarla o collegarla con però ecco di standard la registrazione viene in qualche modo agganciata alla riconciliazione e ne viene impedito ne viene impudita la modifica quindi abbiamo detto che per generare delle scritture nuove possiamo usare o la causale contabile guidata come per le commissioni e in automatico mi viene generata la registrazione velocissimamente posso usare le funzioni del saldaconto quando sto coinvolgendo la registrazione di un cliente o di un fornitore posso eventualmente e stanno così qui questa è una registrazione che riguarda un leasing posso eventualmente richiamare la funzione di emissione prima nota dove mi proporrà una causale generica io mi vengo a personalizzare le contropartite le descrizioni quindi possibilità di generare una prima nota libera guidata ed eventualmente sono delle registrazioni ripetitive come la restituzione di mutui eccetera io posso creare tante sottocausali una per ciascun tipologia di debito che ho gestito a livello di bilancio per potermi venire a fare gli agganci fare la rilevazione degli insoluti e scusate degli interessi la quota capitale le spese della banca quindi anche questa diventa scusate le spese di banca di solito sono separate in una causale cpi separata però diciamo ecco il concetto è posso crearmi una causale guidata per far per generare la scrittura di prima nota quindi da qua dicevamo missione prima nota mi metto la contropartita che adesso invento non so faccio una registrazione che non che non ha senso contabile ma voglio solo venirne fuori li metto un costo di contropartita uno brobrio ma giusto per prima nota generata correttamente e quindi io qua sotto l'aggancio e la registrazione è conciliata dicevo prima che i filtri voi potete utilizzarli i filtri veloci ed eventualmente impostare già di la visualizzazione solo delle registrazioni che risultano ancora da riconciliare quindi nel vostro archivio di riconciliazione avete tutto lo storico dei movimenti ma quando entrate trovate soltanto le righe che ancora dovete riagganciare quindi abbiamo visto la registrazione automatica la registrazione del saldaconto la registrazione che arriva da un'emissione guidata della prima nota possiamo eventualmente adesso vedere che cosa una creditoriva 117 questo qua qui entrando posso agganciarmi alla gestione delle distinte che dicevamo prima quindi se io entro dentro la mia registrazione che importo aveva questo 117 40 gestione distinta entro dentro questo era la mia 717 40 erano quelle del 31 gennaio quindi qua mi vengo a mettere il filtro del 31 gennaio le seleziono contabilizza e gli diciamo di fare la nostra registrazione contabile per totali e ci generiamo il nostro giro conto quindi io il 31 gennaio le seleziono registrazione registrato ma non l'ho riconciliato ok ok non l'ho agganciato adesso me lo vado a cercare forse non l'ho confermato collega c'ho le date sbagliate comunque ecco il me lo trovo ri agganciato e a quel punto ce l'ho contabilizzato adesso lo giro così se ne prima nota lo faccio io ma l'avrei dovuto trovare ho saltato un passaggio dare avere conto 3 non ti piace ok quindi anche questa riconciliata stessa cosa mi posso agganciare per il discorso dell'insoluto per cui diciamo che la generazione delle prime note da riconciliazione può riguardare una causale automatica guidata semplice come quella delle commissioni una causale cbi strutturata come potrebbe essere quella della restituzione di un mutuo comunque di cose analoghe potrebbe essere una registrazione invece tutta generata a mano perché io prima l'incasso del cliente l'ho fatto attraverso il salda conto avrei potuto usare una causale libera e con la f7 missione prima nota la faccio sganciata dal salda conto se mi sembra di fare prima e posso quindi generare delle scritture di prima nota passando attraverso il richiamo delle delle missioni effetti quindi della gestione distinta e quindi chiudendo anche quel giro che abbiamo iniziato prima con la gestione delle distinte questa diciamo che è un po la funzionalità di questo momento sono previste prossimamente delle implementazioni che riguardano il supporto per alcuni controlli perché in questo momento tutta la gestione della riconciliazione fatta e da fare la troviamo accedendo a questo archivio quindi controllando i pallini verdi per intenderci integreranno anche in scheda contabile la l'evidenza che quel movimento di prima nota è già stato riconciliato e metteranno a disposizione delle stampe di controllo inoltre abiliteranno non ve l'ho detto ma in questo momento la funzionalità riguarda soltanto la gestione dello scadenzario a partite scusate solo lo scadenzario documenti quindi la maggior parte di voi verrà estesa la funzionalità anche a chi ha la gestione dello scadenzario a partite in più prevederanno anche la possibilità di arrivare ad avere una riconciliazione automatica in cui l'operatore dovrà solo validare la riconciliazione che il programma già eseguito sulla base di corrispondenze di dati di importi e di causali quindi dove la prima nota è già esistente dove viene riprodotto il movimento contabile come erano le mie spese del 6 a 0 9 di 6 euro e 0 9 il programma proporrà già un aggancio in base alle date che gli importi in questo modo vi troverete soltanto da dover confermare che quel tipo di aggancio è avvenuto è avvenuto correttamente per rendere per prendere vera la corrispondenza e guardiamo se ci sono delle domande allora ci sono due domande barbara che chiedeva se magari puoi ripetere l'estensione che hanno i file delle banche sono dei file standard cbi di tipo txt rh e nella documentazione che trovate nell'area riservata dopo trovate proprio la specifica tra l'altro si sta costruendo con passepartout una banca dati perché ogni on banking ogni banca cia le sue i suoi percorsi di estrazione del file cioè il file è sempre lo stesso però ci si arriva in modi diversi per cui è stata creata questa banca dati in cui verranno un attimo crea creati siamo così percorsi per estrarre il file nel modo corretto in questo momento è disponibile quello della banca popolare quello della crede perché sono quelli su cui noi avevamo iniziato a lavorare però ecco non ho controllato negli ultimi giorni ma questo archivio è destinato ad allargarsi in questo modo nel momento in cui vi troverete a lavorare magari abbiamo già un po di materiale che vi aiuta passepartout ad esempio nel leggimi suggerisce di contattare la banca per farsi dare indicazioni come estrarre il file però di fatto ecco saranno abbastanza standard e comunque sono dei file di tipo test di txt le nostre prove ad esempio iniziali riusciamo a scaricare sempre di xml quelli non sono quelli corretti si chiama rendi contazione saldi e movimenti di conti correnti cbi in formato txt di tipo rh la definizione giusta però ripeto ve lo vi mettiamo la documentazione in area riservata in modo che comunque possiate andarvi a prendere la stringa esatta ed eventualmente confrontarvi sulla vostra banca se se vi interessa poi paola ci chiedeva i automatismi di f24 diversamente ritenute liquidazione iva come funzionano devo comunque prima andare ad eseguire gli automatismi di f24 e poi riconciliare in questo momento sì in questo momento sì non ecco non ho evidenze di futura implementazione al riguardo però diciamo che paspartout è molto ricettivo sull'argomento e anzi ci ha invitato a far presente tutte quelle che possono essere delle situazioni di miglioramento della funzione in questo momento sì bisogna procedere con le funzionalità di contabilizzazione che già conoscete e poi eventualmente qui su rigo bisogna agganciare la registrazione di prima nota che avete generato poi barbara ancora chiede quindi non sono file excel questi file no sono testo sono testo sì 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 all'idea per l'estensione txt hanno un tracciato fisso vi faccio vedere così giusto per sono vedete hanno un tracciato di tipo testo sono posizionali e ogni record son 120 carattere noi un'estrazione che avevamo fatto tra le prove era quella è l'ultimo record ci veniva un po più corto e non ce lo importava però dopo abbiamo capito che se seguiamo le indicazioni di paspartout di cercare la rendicontazione saldi e movimenti di conti correnti ci viene fuori l'estrazione corretta però ripeto per chi dopo partirà magari se sono banche che conosciamo vi diciamo già qual è il percorso diversamente possiamo sentire oppure voi potete sentire direttamente dalla vostra banca che forse si fa anche prima ecco però insomma è abbastanza semplice una volta entrati è comodo io ho visto questa funzionalità già da qualche cliente che ha molti movimenti bancari che lavora con l'estero quindi c'è il problema che quando tiro giù gli estratti conto magari in quel momento il movimento non c'è poi il pomeriggio ricarico e alla mattina spuntano delle nuove registrazioni per una questione di tempo in questo modo è molto facile riconoscere le righe che abbiamo già gestito da quelle che risultano ancora da gestire anche ieri ero da un cliente dove magari sulla stessa banca ci lavorano tre persone diverse perché c'è quella che gestisce i clienti c'è quella che gestisce i fornitori e anche in questo caso risulta comodo capire cosa è già stato gestito non è stato gestito quindi sembra ecco essere un una funzionalità che da un bel supporto adesso non abbiamo un'esperienza di tal di un periodo molto lungo perché la funzione appena stata rilasciata però ci sembra che sia una funzionalità che può dare dei benefici a con supporto soprattutto dove c'è poco tempo che ormai è così dappertutto e dove ci sono tante movimentazioni e c'è qualcos'altro che mi vedo così piccolo che non altre domande no non ce ne sono al momento ok allora è l'ultimo argomento che ci rimane da affrontare è le anagrafiche cribis praticamente passepartout ha fatto una collaborazione con cribis che è leader nello sviluppo del business e che ha un patrimonio informativo importante perché conta sui dati di 6.000 partite ive praticamente raccoglie tutti i dati delle aziende che sono iscritte la camera di commercio e sia delle aziende ma anche degli enti pubblici certificati i servizi cribis sono integrati nella gestione di passepartout nelle funzioni in cui sono richiesti i dati di legati a una partita iva un codice fiscale anche qui questa è una funzionalità che c'è già da data fine anno sono previste però delle implementazioni perché è in fase di crescita anche questa funzionalità alcune delle quali potrebbero essere previste già per marzo 2022 in questo momento cosa prevede prevede che nel quando creiamo un'anagrafica ad esempio di un cliente nuovo e siamo posizionati sul codice fiscale scrivendo sulla partita iva quindi scrivendo il codice fiscale la partita iva e cliccando sul bottone import dati camerali vengono viene fatta una chiamata e vengono già compilati tutti i dati anagrafici previsti nel registro delle imprese e già in questo momento se noi facciamo una rilettura dei dati e nel tempo fosse cambiato qualcosa il dato mi viene aggiornato io ho tolto srl hanno tolto anche la rileggendo l'anagrafica mi viene ad importare i dati corretti se per questa partita iva fossero proposte fossero esistenti più sedi il programma per un elenco che ci permette di scegliere la sede di cui vogliamo creare l'anagrafica e a marzo già a marzo 2022 era prevista la possibilità di fare l'acquisizione dei dati in questa modalità quindi sul campo codice fiscale partita iva col tasto funzione anche per la creazione di aziende nuove quindi questo magari interessa i commercialisti che nel momento in cui si trovano ad attivare un'azienda nuova nella propria installazione tasto funzione permette di acquisire tutti i dati fiscali anagrafici presenti all'agenzia delle entrate e verrà anche stesa la possibilità di fare una ricerca attraverso l'archivio cribis potendo selezionare anche questa una funzionalità futura potendo selezionare in base alla ragione sociale in questo momento adesso l'aggancio in base al codice fiscale la partita iva allargeranno la possibilità di consultazione anche attraverso la lettura di parti della ragione sociale questo magari per gli studi che si trovano a dover creare tante anagrafiche o anche legato alle installazioni dei clienti fattura self che si collegano all'installazione del cliente dello studio del commercialista per dare un supporto alla creazione di anagrafiche corrette fiscalmente corrette con i dati corretti a cui potrebbe essere una funzionalità di supporto questo era un po erano sono gli argomenti che avevamo piacere così di porre la vostra attenzione in modo che non scappi ecco la presenza di queste funzionalità e che magari possiate valutare se ritenete che sono delle operatività che possono aiutare a supportare la vostra attività a lavorare meglio ecco sono se può essere di aiuto noi chiaramente siamo disponibili a fare formazione ad affiancarvi nell'approfondimento di queste nuove gestioni magari teleassistenza anche in presenza per come fare non so i primi giri vedere insieme la decisione delle missioni distinta con tutti gli agganci e le funzionalità nel dettaglio in una maniera formativa questa è stata una presentazione una sorta di così di carrellata funzionale metteremo ripeto di nuovo sul nostro sito i manuali manuali che supportano queste funzionalità dove potrete trovare tutti i dettagli magari per riguardarveli con calma per così per approfondire l'argomento max eccomi c'è una domanda di cara pronto adesso mi sentite max mi sentite adesso io non ti sento e avete delle altre domande magari sugli argomenti che ci siamo detti mi sentite adesso ok sono solo io che non ti sento va bene allora non è un problema grazie scusate niente io no aggiungo non sento niente hai delle domande mi stanno dicendo che a me mi sentono a te non ti sento comunque volevo soltanto ricordare che se avete intenzione di avere indicazioni sul su questi modulini di aprire una richiesta in area riservata specificando se siete interessati al modulo importazione strati conto o al modulo anagrafico ad entrambi e poi vi contatteremo noi per quelli che sono i dettagli comunque sono ad uso appunto gratuito ancora fino al 28 febbraio l'importazione anagrafica ai clienti e al 30 aprile quella degli estratti conti eh faccio fatica a interagire adesso con Laura gli farò dei gesti eh io non ho altro da aggiungere chi volesse anche la registrazione del corso eh può sempre inserire una richiesta nell'area riservata richiedendo appunto la registrazione del corso io vi saluto e faccio cenno a adesso sento adesso ci siamo riuniti va bene d'accordo grazie a tutti per la partecipazione siete rimasti tutti fino all'ultimo e alla prossima a presto fateci sapere buona giornata grazie grazie